Una nuova TAC tomografica per l'ospedale La Gruccia di Montevarchi. L'apparecchio è stato inaugurato questa mattina e il suo utilizzo porterà molti vantaggi per i pazienti di questo ospedale della provincia di Arezzo. Questo nuovo dispositivo è stato acquisito con un noleggio di 5 anni per 422 mila euro. In questa cifra è compresa anche la manutenzione completa. Molteplici vantaggi, migliorerà la qualità diagnostica, ci sarà una maggiore velocità nell'esecuzione degli esami. Questa TAC inoltre ha sistemi di protezione delle radiazioni ionizzanti con sensibile riduzione della dose radiogena, ridotta dell'80% rispetto alle tecnologie tradizionali. La TAC verrà utilizzata nei settori della neurologia, dell'oncologia e del total body. Per la sua installazione sono stati effettuati lavori di riqualificazione nella sala di destinazione, con la sostituzione del pavimento e l'adeguamento dell'impianto elettrico e di quello di condizionamento. L'intervento è durato due settimane con un costo di circa 30.000 euro.